Non ti ha detto c'è un gran idiota! Ma lei devi fare lì, cosa pensi dell'anzola? Cosa pensi dell'anzola? Penso... Non ti mangiare! No, davvero. Penso che vinceremo e andremo in B1. Che cuffate! Che cuffate, la verità! Aspetta che mi tocco un pochettino! Sei sicuro, Giga? Sono sicurissimo di quello che dico. Aia, guarda che pesa questa dichiarazione! Io credo che andiamo in B1. E se non ci andiamo? Se non ci andiamo, terminiamo in B2. C'è che caso me ne frega, Gianni?